Buonasera a tutti, voglio ringraziare voi che siete qua per la prima proiezione nazionale di 1945 che è il secondo film che in maniera un po' da mariposa cinematografica che è una piccola casa di distribuzione che ci aiuta in questa avventura ma abbiamo avuto l'aiuto di tanti altri, persone che hanno dato una mano il Consolato Generale d'Ungheria che ha appoggiato con entusiasmo l'uscita di questo film in Italia e ha dato il patrocinio e poi si sono stati fortunati, sono accadute anche in questo caso come era accaduto già un po' per Alamar ci sono state delle coincidenze fortunate e quindi stasera abbiamo l'onore di presentarvi il regista del film prego, Ferenz, benvenuto e abbiamo con noi in sala anche il console, Beregni Mark giusto, l'ho pronunciato più o meno bene si dice prima il cognome e poi il nome in ungherese infatti lui non è Ferenz Torek ma Torek Ferenz e anche lui cerco di pronunciarlo decentemente ma il mio ungherese è ancora molto basico ed è per questo che abbiamo con noi Cristina, Sandor Cristina che ci aiuterà per fare da interprete se è contento che il suo film sia arrivato in Italia e ci farà una breve introduzione poi dopo naturalmente avremo più tempo per parlare dopo il film ci sono un giro grazie buona natta grazie 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 Grazie, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Questa è la prima sera che in Italia si proietta il mio film, ne ho fatti diversi, però è la prima volta che viene distribuito e presentato la mia opera, comunque così in vasta gamma. Domani parto per Roma, dove sarà altrettanto presentato in prima nazionale, diciamo così, per quanto riguarda Roma, e quindi sono molto felice di essere qui con voi. E questa è una lunga di lavoro, per quanto riguarda 10-12 anni, la prima è venuta a Berlina è il nostro, e ora è ancora un' dalla nostra, Questo è il risultato di un lungo lavoro. Abbiamo lavorato dieci anni sulla realizzazione del film, quindi è una grande soddisfazione potervelo presentare. La primissima presentazione era al Berlinale, appunto in Germania, che ha avuto un grande successo e quindi sono felice che anche in Italia sia apprezzato il film e che venga distribuito. Poi dopo la proiezione torno e se avete domande o vogliamo chiacchierare del film sarò a vostra disposizione. Grazie, buona visione. Grazie.